Fabio, tutto bene? Ma porca miseria, sì, siamo qua, un po' di caldo là sotto in tribuna, però... Dai, dai, tutto sommato, ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo. Grazie, grazie. Per l'allenatore è il secondo titolo Lombardo? Il terzo titolo Lombardo. Il terzo, se fai così vado via. Appena questo il fact-checking, mister. Siamo col match winner della finale, Vincent de Maria, segnato il gol decisivo. Ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo. Adesso qua i ragazzi mi stanno facendo il gavettone, quindi mi devo mettere da questa parte. E' da fermare. Intanto i ragazzi dell'Aldini festeggiano. Siamo qua vicino, perché voi non vi bagnano. Io l'ho provato, ho calciato, poi è andata come è andato. Ma porca miseria. Il terzo, se fai così vado via. Appena questo il fact-checking, mister. Cancellate, cancellate. Non mi rovinare il nastro. Non meritano queste scene qua di essere riprese. Ma porca miseria. Il terzo, se fai così vado via. Appena questo il fact-checking, mister. Grazie, grazie. Tutto che, grazie. Tra tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.